Chapter 9 Lesson 5 La victim presenta un corpo esterno in un oqueo e'o E'o que la victim non sito qui loqueo ferito Si, la victim presenta un corpo esterno Un corpo esterno in un oqueo E'o que la victim non sito qui loqueo ferito E'o que la victim non sito qui loqueo ferito Loqueo ferito Si, la victim presenta un corpo esterno in un oqueo Bisogna coprirlo con materiale possibilmente sterile Se la victim presenta un corpo esterno in un oqueo Bisogna coprirlo con materiale Se la victim presenta un corpo esterno in un oqueo Bisogna coprirlo ad aspettare l'intervento dello specialista Se la victim presenta un corpo esterno in un corpo esterno E'o que la victim presenta un corpo esterno in un corpo esterno E'o que la victim presenta un corpo esterno in un oqueo Bisogna far prendere l'aria all'occhio Se la victim presenta un corpo esterno in un oqueo Bisogna versare acqua nell'occhio E'o que la victim presenta un corpo esterno in un oqueo Bisogna togliere il corpo esterno anche con mezzi di fortuna Medzi di fortuna E'o que la victim presenta un corpo esterno in un oqueo E'o que la victimima la respirazione artificiale consiste nell'inspirare e poi espirare nella bocca dell'infortunato la respirazione artificiale e che in modo di dare un'inspirare e poi espirare e poi espirare nella bocca dell'infortunato e che in mente di dare un'inspirazione artificiale che in modo di dare un'inspirazione artificiale e che in modo di dare un'inspirazione artificiale 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 e la respirazione artificiale artificiale Automata artificiale哪 interesse Logica che in modo di dare un'inspirazione artificiale che in modo di dare un'inspirazione ma che in modo di dare un'inspirazione inside ci sono facilmente quindi ci sono tutte le nao che in modo di dare in modo attravers apartments ieme alla ist effects certi è musicopi a portava il rispiration nella rispiration la rispiration si accolta si accolta si accolta la rispirazione artificiale artificiale il nostro corso gratuito la rispirito grazie la respirazione artificiale che si pratica che si pratica come lo uso di elettro di e ai che si pratica che si pratica come lo uso di elettro di il messaggio vero conditioners il messaggio cardia è effettua non è il primo corso conoscite in una serie di compressione della stazione il messaggio cardia o yarniche messaggio cardia o yarniche essa che misaggio che che le non non si che quindi il primo corso di un'esercizio di non di una serie di compressioni ci sono Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì Sì il terna tutto allo allo respiratione a tutti fischale il massaggio cardia affetto nel primo scorso il massaggio cardia il massaggio cardia che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.